Come prima, più di prima, la vero, e la vita, la mia vita ti dà, sempre un sogno di vedere e accarezzarti, le tue mani da le mani, spingere al cuore, i miei amati, tutto il mondo sei per me, a nessuno voglio bene come a me. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, chiamerò. Grazie a tutti. 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 VAMOS A LA PLAYA 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 Grazie, mi ha lasciato l'ultima volta, per le due. Guarda, era solo il momento della pubblicità, adesso voglio rimanere con voi invece, perché qua abbiamo fatto una venne nera, non è bianca e non è finca, è un bel trio. No, adesso invece voi rimanete con noi, cioè rimanete con me, non è un momento di pubblicità adesso, voi rimanete con me perché voglio fare un quiz, siamo in quest'anno 68, adesso vediamo un po', se io faccio così, per esempio, faccio U, E, E, O, che è? Jerry Lewis. Jerry Lewis, dai! No, u, due, tre, A, non mi dica uno che ha la sciatica, che gli fanno male le anche, no, era quella mossa di quei due ragazzi. Io non lo so Fausto chi, eh? Questo passo è rivoluzionario, è U, due, tre, E, O, con questo passo rivoluzionario dei pazzi ragazzi rivoluzionarono la televisione italiana, i pomeriggi degli italiani, erano quei pazzi scatenati di quelli della domenica, vogliamo vederci un pezzo di filmato, Cochi Renato, Paolo Villaggio, quelli della domenica! Dal teatro delle vittorie in Roma, il Maurizio Costanzo Show! Grazie!